Per il signore Folti che è una prova di grande maturità, tante volte è stato giocato di avere troppi alti e bassi, l'ultimo su in alto. 9 su 18 ai liberi, Pittman sportellata e schiacciata. Di fuori con un'assassata per Esbro che controlla seppur difficilmente, qua si va sotto la Pittman che lascia lì la per i novici. Per il signore Folti che è un'assassata per Pittman, il terzo pallone è perso in fila, la luna è dell'altra squadra, Sontecchio sotto per Pittman, Finta contro finta, va Corse, mi canzzi, si ripete. Tacca Bologna, Odom per Esbro, sotto per Pittman. Va, grida una smoca di dolore da parte di Pittman che però va a bloccare su Collins, Odom va a cercare proprio Pittman, spalla canestro contro Kirk e allora sta bene perché va a realizzare il canestro mancino. Allora va avvitato in contropiede per Lazzola, schiacciato su Pittman, spalla per l'espoca, diventata la difesa di Vecalas, lavoro fuori per Odom, mette palla a terra, serve ancora Pittman raddoppiato, canestro e fallo. Infermato bisogna pensare di essere arrivati dopo tre vittorie di seguito, sicuramente non ci pensa la Virtus che cerca il suo colpo salvezza con Tex e Pittman. Trovato il seguito, 47 punti in poco più di 17 minuti. Ma Austin Day certamente se deve riposare meglio lo faccio adesso, sorpresano avanti. Porta Fletis tu 2000. Quattro Riaiki. Da Catesera. Ori Aiki. Pittman a 1,1. Calati. Anandate che provo per la Porta Fletis tu NBA, metto Miami. Edo metto Arise. 570. Reggio Emilia è gradostar, promieniamo un' possibile ritmo, toplo hladno. il palleggio di Gedi c'è anche Kurt Neyfels Williams Odom dentro subito a cercare Petman che si gira benissimo evita riceve dopo essersi aperto per farlo Odom cerca un compagno difende forte Varese la palla però è lì per c'è Vitali contando da canestro a sfidale di Pizzo arriva il blocco di Petman Vitali ha lo spazio per il pick and roll con Petman che va su c'è il pallero apre il palleggio si tuffa dentro poi vuole Petman lo trova con un gran pallone corregge l'aiuto è proprio quello questo Petman qui serve nel corso di questa stagione Gedi va a scaricare ancora per Petman Petman usc il segnale che si aspettava Vitali schiacciato per Petman e il fallo, il canestro, il tiro libero aggiuntivo a Williams, ancora Williams che con una serie di pinte va via Abramo sullo scarico sotto per Petman ed è Petman ad apportare parte di Forrai per il nuovo più 10 Dolomiti Energia, ora Gedi col penetra e scarica, lavora bene di triangolo Bologna 20 e 15 al tabellone, 1 e 40 da giocare, ancora Vitali che finta la confusione a Trezzi tutta dentro, appoggia per la schiacciata a forno Collins palla per Petman e qui riceve questo pallone consegnato da Vassola poi Fontecchio, gran palla per Petman una lettura giusta, si va a Medatà Gedi chiude il palleggio, serve Vitali e poi vede in maniera Pontechio, lontano dal canestro, prende il trotto di Marzola gioca da 2, ottimo gioco alto e basso e stavolta la Viento perlomeno c'è l'imbalzo di Fontecchio, non ha extra possesso, ancora Williams, ancora il pallo di dice 4 secondi alla fine 0 su 2, l'imbalzo di Petman che poi vanno, è riuscito comunque a far sentire, Vitali alza la parabola col semi-gancio, l'errore grande per Mazzola di nuovo, il tiro dalla media, l'errore di Mazzola, rimbalzone di Petman che schiazza Vitali da 3 punti, sul ferro, rimbalzone di Petman che gioca fuori dalla difesa bianconera, ci prova Hesbrock dall'altra parte a fare la stessa cosa, ad errore il rimbalzone di Petman che è da su per Bologna, Ray, mette palla per terra, è lo step back contro proprio Victor Gade, forse il rimbalzone però è di Petman che lì è vita facile costretto pesa da giocare la palla canestro che voleva Valdi, sbaglia per Virtus, rimbalzo di Petman calotto girismo di sballa, ha fatto in Virtus, Odoma Stoix è su triompondono va a prendere, vorrebbe giocare a 2, il Kortner però non le qualsiasi linee di passaggio, va da solo Gade, il rimbalzo di Petman che lotta, sbaglia, riprende ancora il rimbalzo, subisce il pallo anche in difesa, Pels, il palletio, attacca il canestro, va a cercare una cosa difficilissima, proprio in distacco ci prova proprio con Guglielmo, l'errore il rimbalzone di Dexter Petman Petman, externa di chi, passa a prova Petman, con il Stoix, ma per Tutman, di Mazzola Petman, in duele, sta con il Mazzola C'è il settore di Petman, se ci sono le paure, San Paolo è ready, è dying per 2, non per 3 Qualcuno di Sestri è un pallone di Pus, un pallone, il Pus, un pallone di Pus, una bata per Pus, un attrazione di Vietman Corri è un pallone di Pus, un pallone di Pus, un pallone di Pus, un pallone di Pus, un giro per Pus, un pallone di Pus, un pallone di Pus. Gran palla per Afro Luchetti Arriva il gioco di Pittman, gioco a due Una situazione difficile per Pittman Che scarica ancora, ha trovato un buon po' con le Berghetti Si alza ancora da tre punti Adesso perché è il luogo più pericoloso di Gremona Sulla carta, Pittman fuori per la tripla di Esbruck Questa è una giocata Si va da Pittman, dentro per l'HP Terminante un obiettivo lavoro Bologna Che è reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare Con Jared Berglin e Julian Wright Con Jared Berglin in particolare evidenza Ora l'ha rullata da parte dell'Ebscam Gioco sulle linee di fondo Si vada la stoppa Stavrotti La Paepro sta a messa Peris, la palla arriva nelle mani di Green Sei secondi, la stoppata Tre falli, ma che è stato sicuramente un fattore Per la squadra di casa ed eccolo di nuovo